cerco le pastiglie che non so dove le ho messe dovete saltare dall'alto tirate con le mani il giubbotto di salvataggio verso il basso ma si esatto ma lo siamo semmai quando siamo a raffini l'unico italiani siamo noi Zacchè parlate greco? è venuto E' il caio che trova lì, grazie. Bisco lato Siamo quasi arrivati a Patrasso, siamo partiti ieri sera da Ancona, tanto questa parte è quella taglia Siamo quasi a Patrasso, il mare è una tavola Questo è per me, Rossi Alberto, e ho un po' per lui È meno stressante del più di Revis Grazie Grazie Ciao un bel po' andrea ok dai un minuto grazie vieni con una moto si 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 se si si Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Che bel parcheggio Orlo con pasta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Proprio rosa questo Proprio rosa 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 Baclava Baclava Serralo Proprio rosa 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 Pasta from the sea, non potete sentire il profumo ma è molto buono Problema la moto è pronta per il viaggio di ritorno purtroppo bisogna sempre ritornare un po più impolverati di come si è partiti il viaggio di ritorno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.